In questo momento siamo alla stazione di Egi Shalom, è appena arrivato un convoglio con alcune centinaia di persone che si stanno dirigendo a piedi verso la frontiera austriaca. Questa scena si ripete più volte al giorno, il flusso è abbastanza ordinato e adesso man mano seguiremo il gruppo di persone e vediamo appunto cosa succede. Questa stessa scena l'abbiamo vista ieri sera con altre migliaia di persone che si muovevano verso la frontiera austriaca.